Sandro oggi compie 70 anni, per cui ho preparato questo bigliettino blu, con all'interno lo spazio per scrivere un augurio personalizzato. Ho disegnato un 7 e uno 0 sotto forma di palloncini azzurri e ho scritto sopra Sandro. Per il trentesimo compleanno di un amico ho deciso di disegnare a mano il muso della moto Yamaha MT-09, ovvero la sua moto. Per la nascita di Filippo ho preparato questo bigliettino su carta craft ad angoli smossati. Ho preparato una banda azzurra con scritto Benvenuto Filippo e dei palloncini. Per l'anniversario di mamma e papà ho preparato un bigliettino con 9 piccoli cuoricini a sfondo diverso e a decorazione diversa e ho scritto sotto Lorella e Fabio.